Ah, un perdente. Sorpresa? Sorpresa sì. Ma però sono contento. Oddio, appena iniziato. Appena iniziato però la stagione piano piano sta finendo. Stiamo piaciando anche noi, bastanti. A poi andremo a volerlo. No, non lasciate. Vacanza... Quest'anno non c'è tempo perché normalmente siamo un po' prima. Ma poi c'è anche Coppa Davis dopo. È bello giocare anche qua a Coppa Davis. E tanto, questo è riscaldamento. Esatto. E' da come riscaldamento. Poi giocare ai bambini. Buonizzo. Buono. Però sono contento. No, no, mi sono contento un sacco. Poi bravo l'hai fatta durare poco. Sì, esatto. Ci ho provato. Poi poi è troppo lunga e pallosa. Noi andiamo vicino a via. Facciamo una bella foto insieme. Poi ci sentiamo. Facciamo una foto. Davanti allo sfogliatore. Sarebbe bello? Visto che l'hanno preso. Ha detto che stavessi perso non ti cambiavano la foto. Perché hai vinto. Grazie mille. Ci torniamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.